Voglio approfittare dell'avere dei personaggi Rai come Augusto Tocci che premettiamo ripartirà con la prova del cuoco per 38 settimane, mi confermi? Sì, che dico, Unto? Mi permetti di ripresentarti, Lauro Morettini, amministratore unico e unico anche come uomo dello Spinello, mi confermi? Confermi. Allora tu però mi devi spiegare il tuo segreto, come mai non toppi mai? Cioè ogni manifestazione, scena, può essere in qualsiasi parte del mondo, dallo stadio di Firenze alle piazze di tutta la Toscana, non toppi mai, qual è il tuo segreto? Il segreto non toppi mai non direi, insomma ci sono anche le difficoltà qualche volta, però i problemi sono fatti per essere risolti e quindi noi guardiamo sempre avanti e cerchiamo sempre di fare qualità nei servizi, nella scelta dei prodotti, ce la mettiamo un po' tutta. Chiedo conferma al Tocci, scelta dei prodotti giusta? Ascolta, io ho portato solo un personaggio in quattro anni alla RAI, alla prova del cuoco, è Roberto Lodovichi, quindi secondo me questa è una garanzia, vuol dire che sa scegliere i prodotti e li sa trasformare, compresi quelli che vengono fatti con l'olio Morettini, anche quelli vengono buoni. Perché è vero che Riti usa il tuo olio lui, il mio olio è il migliore, lui non chiede l'olio in generale, lui mi dice porta il migliore. Tra l'altro voi vedete queste belle apparecchiature, queste belle posaterie, Roberto Lodovichi cura anche i particolari e tra poco, tempo 15-20 giorni, vi porteremo una sua grande novità, ma non l'anticipiamo. Non l'anticipiamo perché è ancora un segreto, è ancora in costruzione. Ma io lo so, non tengo niente, tra due minuti ve lo dico.